beh allora purtroppo ognuno ognuno gioca con le armi che ha c'è chi gioca sporco c'è chi modifica gli audio io faccio nome e cognome non ho problemi chi vuole querelare querela questo è un video metà calcio e metà fare chiarezza su una brava persona serve a questo questo video e parlo di corcione giuseppe quel video quell'audio scusate che sta girando è una conversazione tra me e giuseppe corcione quanto fa schifo la gente guarda che schifo io dei livelli così bassi addirittura è un audio modificato io mi prendo le mie responsabilità quell'audio ce l'avevo solo io io ho fatto l'errore non ho problemi a dirlo perché l'ho detto anche a corcione ho fatto l'errore di condividere quell'audio con una persona di cui mi fidavo quella persona questo audio non si sa perché l'ha fatto girare ovunque ed è finito in mano di chi non aspettava altro e fare una live ed avere un argomento perché eh l'unico ci hanno fatto una live perché non hanno argomenti quello per loro è un argomento di live già questo ti fa capire che livello sono certi personaggi oltre i reati che continuano a fare facendolo sentire sicuramente qualcuno gli avrà detto fatelo sentire non vi succede nulla non abitate in italia ma non hanno ancora capito forse bene come funziona in quell'audio lì in quell'audio lì tra me e giuseppe corcione in quell'audio modificato perché io ho l'audio originale perché ce l'ho solo io ce l'ho solo io quell'originale in quell'audio originale corcione quei giorni parlava del bond cosa è a noi insieme al team non tornava io feci un video dove precisai guardate il bond non è così così è così lo dissi perché ero sicuro corcione se l'ha presa male ci sentimmo nei vari vocali e nei vari vocali e lo posso giurare sui miei figli non dovessi più rivedere i miei figli vi hanno fatto sentire solo un piccolo estratto lì perché non c'è la non c'è lo giuro sui miei figli io dissi questo dopo arriveranno gli arabi di che cazzo parlerai parli troppo degli arabi cerca di svariare e lui mi disse quando dopo pif mi inventerò qualche cos'altro ma lui intendeva come argomento no che si è inventato pif perché gli arabi non se li ha inventati nessuno perché due anni fa parlavano di pif inter anche nelle televisioni arabe dove lì non esistono le fake news perché lì le fake news non le puoi dire va in galera tutti i giornali del mondo hanno parlato degli arabi quindi io e col cione ci siamo inventati gli arabi e poi dopo tutti i giornali del mondo hanno ripreso le nostre notizie giusto io gli dico dopo gli arabi di che cazzo parli parli troppo sei simpatico sai far ridere la gente parla anche di altre cose lui mi disse giuse dopo gli arabi mi inventerò qualche cos'altro ma in termini di argomenti questi poveretti che fanno pena usano dei vocali modificati per fare le live perché non hanno argomenti sono finiti non sono redibili questo è il vero schifo di youtube questo è il vero schifo di youtube non è giusto accusare una persona come col cione di cose che non ha mai detto ed io lo posso dimostrare perché prima di quella risposta c'è il mio audio capito c'è il mio audio che gli dice ma dopo sono arrivati gli arabi di che cazzo parli questo gli dissi in un momento di rabbia col cione avete capito quindi tutto quello che hanno detto questi signori questi signori hanno fatto dei reati gravissimi perché innanzitutto hanno diffamato hanno detto cose che non esistono e hanno fatto ascoltare anche un vocale quel vocale ce l'avevo solo io io l'ho girato ad una persona di cui mi fidavo che l'ha girato ovunque sicuramente era d'accordo un qualche d'uno devo pensare questo non lo so cosa cazzo è successo ma quel vocale ce l'avevo solo io e mi prendo le mie responsabilità ma io l'ho fatto girare ad una persona sola quindi non credete a quello che vi hanno detto pulizia su youtube la pulizia su youtube dovrebbe partire da loro e fanno schifo e che e che giocano sporco e che non accettano il fatto e non piacciono alla gente la pulizia da youtube deve partire da voi che siete ridotti a fare delle live con un audio voi siete lo schifo degli interisti voi siete lo schifo di youtube voi vi dovreste vergognare che accusate di cose non esistono persone perché io ce l'ho il modo di dimostrare con l'audio che un audio che gli mando e quando lui mi risponde giuse mi inventerò qualche cos'altro quando saranno arrivati gli arabi perché io gli dissi come lo mandi avanti il canale dopo che sono arrivati gli arabi cosa di cosa parli e lui mi inventerò qualche cos'altro come per dire un altro argomento farò i balletti farò gli spogliarelli è questo che lo intendeva giuseppe corcione mi fate schifo mi fate schifo voi siete la schifezza di tutti gli interisti voi fate schifo era giusto chiarirlo perché non è giusto attaccare una persona di cosa che non ha mai detto ed io a differenza vostra modificatevi gli audio lo posso dimostrare capito ma poi vogliamo fare i duri facciamo nomi e cognomi da arriviamo fino in fondo facciamo nomi e cognomi non mi amare cappellino toscano fai il mio nome e cognomi dai arriviamo fino in fondo dai voi siete tosti lo schifo di youtube siete voi voi siete vergognosi voi siete la vergogna di tutti i tifosi interisti perché io lo posso giurare sui miei figli non dovessi vedere su più sui miei figli se non è vero quello che sto dicendo e che il corcione lo sa perché ovviamente c'ha l'audio ma lo sanno anche altre persone lo sanno anche i ragazzi del team lo sanno tutti mettono si inventano le cose cosa pensate di fare ma dopo che vi siete inventati quell'audio che che cosa pensate di fare di avere audie fate schifo al cazzo non migliorerete la audience cosa pensate di fare che la gente vi dica bravo cosa pensate di fare avete parlato di americani due anni cosa pensate di fare di diventare credibili vi volete lavare la coscienza cosa pensate di fare fate schifo al cazzo lo stesso qualsiasi cosa succeda cosa pensate di fare di acquisire punti dicendo le stronzate voi cosa pensate di fare vergogna vergognosi cosa pensate di fare voi voi siete vergognosi io mi vergogno veramente per voi mettere in bocca ad una persona cosa che non ha mai detto e io lo posso provare perché è la mia conversazione che avevo solo io quell'audio ce l'avevo solo io mi prendo la responsabilità e un testa di cazzo lo ha fatto girare ma quell'audio ce l'avevo solo io ma non ci sto più dire cose non sono vere di una persona che sta su youtube ci sta per i soldi ci sta sono cazzi suoi perché a differenza vostra sta raccontando una cosa vera avete raccontato puttanate due anni sugli americani fonti di investimento rifinanziamenti cosa pensate di ripulirvi cosa siete voi degli avvolto che mangiano merda che aspettano i cadaveri cosa siete voi fate ridere voi siete la vergogna dei tifosi dell'inter scandali scandalosi voi siete dei falsi dei bugiardi che schifo madonna buona ciao inter grazie a tutti